Amici di Canale 5, sono qui per ringraziarvi per la simpatia che quotidianamente ci dimostrate. Sono stati resi pubblici in questi giorni in Italia i dati d'ascolto televisivi dell'indagine Istel, la più importante e sicura fonte di rilevamento dell'ascolto televisivo. Come sapete l'indagine Istel è commissionata da tutte le reti televisive italiane, compresa la RAI. Ebbene, questi sono i dati rilevati nei primi 14 giorni del mese di aprile, nella fascia oraria che va dalle 20.30 alle 23. Canale 5 ha ottenuto una media serale di 7.974.000 spettatori, la RAI, Rete 1, 7.715.000 spettatori, Italia 1, 3.844.000 spettatori, la RAI, Rete 2, 3.766.000, Rete 4, 2.723.000, Eurotv, circuito integrato, 1.657.000, RAI, Rete 3, 347.000 spettatori. Canale 5 è per la seconda volta nella stagione televisiva, autunno 1983, primavera 1984, la prima rete televisiva italiana. E come nel novembre del 1983, l'ascolto appunto nella fascia serale che va dalle 20.30 alle 23, è risultato superiore a quello della RAI, Rete 1, e più del doppio di quello della RAI, Rete 2. è una gara sportiva, io credo, per la maggior gioia vostra, e in questo caso, se permettete, anche per nostra gioia. Grazie ancora e buon procedimento con i nostri programmi.